Vittoria importantissima della Juventus Domo in casa contro la Castellettese per 3-0 in virtù appunto di questo risultato aggancia la zona playoff il vantaggio arriva al 26esimo, un 1-2 Puzzello Fernandez porta a quest'ultimo a tupi a tucco le portiere, il numero 11 decide per un lastista ad Andreoli che infila l'1-0, il raddoppio arriva dopo un solo minuto dall'inizio del secondo tempo Puzzello tocca per Violi che conclude davanti alla portiere Pedrina appunto respinge da Marco Fernandez più l'estimo a versi di infilare il 2-0 il 3-0 definitivo arriva al 41esimo, Violi tutto solo entra in area di rigore il suo tiro cross serve a Andrea Fernandez che segna il definitivo 3-0 per la Juventus Domo, Juventus Domo che nel prossimo turno affronterà la Dufour Valallo in vista poi del big match contro la Virtuscusio